ecco io vengo da quella scuola ecco minecraft è il lego infinito è il lego online che puoi giocare con gli amici è il gioco più venuto del mondo sono persone che ci dedicano anni cioè da quant'è che quanto ci hai messo a costruire quel mondo un annetto circa va bene neanche troppo non è tanto quante ore al giorno quando avevo molto drive tra le 6 e le 9 un lavoro cazzo un lavoro per quello gli dai un valore quanto l'hai valutato 350.000 secondo me ora chiaramente si fa pure parlare tutti i moni in tutte le stagioni si potrebbe parlare magari di non lo so voglio dire un milione perché non so se pagherei così tanto io per avere un mondo tu ti dai il valore che vuoi al tuo mondo immaginato l'altro è come uno dei tuoi business magari dovresti rinunciarvi non so se lo conterei come un asset onestamente però ti posso dire qualche anno fa ho fatto una collaborazione con questo ragazzo ho conosciuto al Guggenheim di Venezia perché per qualche mese ho collaborato con il Guggenheim e ho conosciuto questo artista tedesco che ora vive in Cile si chiama Jan Vorman che è uno molto famoso per il Lego per l'appunto perché è quello che riempie i muri dove ci sono i buchi ci mette il Lego lì l'ho conosciuto durante una collaborazione al Guggenheim siamo rimasti in contatto e lui è rimasto molto affascinato nel mondo di Minecraft perché gli dicevo no io faccio questo faccio quello di qua di là è rimasto affascinato siamo rimasti in contatto e lui ha messo insieme un gruppo di 8-10 artisti non mi ricordo di preciso forse erano 9 o 10 da tutto il mondo molti americani tra cui anche quello che ha creato la grafica di Space Invader dell'Alienino questi artisti hanno creato delle opere nel loro stile tra l'altro anche un super artista che ora sta esplodendo che fa tipo i murales rompendo con il martello pneumatico quindi lui prende la parete bianca e con il martello pneumatico fai dei tratti in basso rilievo bellissimo non mi ricordo il nome e tutti Vils esatto e lui ha partecipato a questo progetto anche e hanno creato tutta una serie di composizioni artistiche dedicate al mio mondo di Minecraft che io poi nella mia serie ho riprodotto e hanno esposto al Total Museum a Seul e quindi grazie grazie